Il GP Vallo perde in casa la quarta gara di quelle finora disputate del campionato regionale di serie di femminile che ha visto sabato 29 novembre le ragazze cilentane opporsi alla compagine del volley Santa Maria di Costantinopoli. Serata sfortunata quella andata in scena presso la palestra Aldomoro di Vallo della Lucania dove il gruppo polisportivo, nonostante un serio infortunio, ha corso una delle ragazze del sestetto iniziale e le poche palle sbagliate durante tutto il prosiegue della partita si sono dovuto arrendere alle avversarie che hanno portato a casa la vittoria. Il tabellino di fine gara recita 3-7-1 per gli ospiti ma tranne che nel primo periodo perso nettamente le pallavoliste cilentane hanno dato filo da torcere alle avversarie conquistando il secondo set e cedendo il terzo e quarto set solo nel finale. Il Santa Maria grazie a questo successo conferma ancora la propria imbattibilità in questo torneo piazzandosi al sesto posto in classifica con otto punti mentre il GP Vallo resta fermo al terzo e ultimo posto con soli quattro punti con il pensiero alla difficile trasferta di sabato prossimo sul campo della capolista Pastena.